la squadra di casa con Eugenio Corini che sorprende per certi versi quelle che erano un po' le indiscrezioni perché va in panchina Alberto Paloschi, l'uomo che nella scorsa stagione è stato grande protagonista per la salvezza con 13 gol, partirà dalla panchina e allora 7 nuovi acquisti in campo con Maxi Lopez unica punta Schelotto e Birsa che agiranno sulle corsie con Birsa che potrà... per arrivare sul tappeto verde dello stadio di Verona la risposta della Juventus totale emergenza per Massimiliano Allegri Chiellini ancora due turni di squalifica Barzagli è infortunato, Morata è infortunato Pirlo si è fermato giovedì, sarà fuori per un mese e poi il virus influenzale che ha costretto anche Allegri a saltare due sedute d'allenamento con Giorente e Giovinco che ieri hanno svolto terapie